Trattatutto è offerto da Mab&Co, formazione e strategie per l'evoluzione del business. Mabmanagement.it Azioni vincenti, uguale aziende che crescono. Insight, pillole, della gestione d'impresa. Un formato offerto da Mab&Co, a cura di Vittorio Sanna. Ciao Vittorio, grazie del tuo invito. Oggi ho piacere di parlare insieme a te di gestione delle persone e vorrei affrontare tre punti fondamentali per avere successo nella motivazione delle tue persone chiave in azienda. Primo punto è il pieno apprezzamento per il lavoro svolto. Nel senso che le persone spesso amano restituirci nuovi risultati alti standard quando a seguito di una giusta azione vengono premiati e riconosciuti con un apprezzamento. Quindi cosa vuol dire? Che spesso l'imprenditore crede che ci sia bisogno di dare incentivi tangibili come per esempio aumenti di stipendio o comunque gettoni mentre spesso ciò che i campioni in azienda chiedono è proprio di essere apprezzati. Il secondo punto è il coinvolgimento nel progetto quindi il perché aziendale, la meta aziendale deve essere nota a tutti mentre per l'imprenditore è bene che sia nota la meta, il sogno di ogni persona che fa parte del gruppo. Questo coinvolge tutti quanti nel raggiungimento delle mete personali e anche delle mete aziendali. Terzo e ultimo punto che voglio affrontare con te stasera è quello dell'importanza di un piano di crescita chiaro in quanto le persone per dare il meglio di sé ma soprattutto per crescere all'interno di un progetto hanno bisogno di sapere dove si trovano oggi e dove potenzialmente possono arrivare grazie alla meritocrazia e al duro lavoro. Azioni vincenti, uguale aziende che crescono Insight, pillole della gestione d'impresa Un formato offerto da Mab & Co. a cura di Vittorio Sanna Trattatutto è offerto da Mab & Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business MabManagement.it